Al di là del titolo generale dell'incontro di oggi, quindi opera d'arte del patrimonio italiano, libero utilizzo e autorizzazione da parte dei musei, domanda molto semplice, ho cercato di, quando abbiamo trovato un titolo, una cosa descrittiva per far capire davvero di che cosa parliamo e qual è l'interrogativa a cui vogliamo rispondere alla fine di questo pomeriggio insieme. Io però vado sulla parte normativa giuridica, spiegando un po' quali sono le norme che entrano in gioco e mettendole un po' in crisi, ho una parte finale delle slide con le criticità che io ho individuato, probabilmente ce ne sono altre, però sono quelle che mi sono venute in mente studiando da tempo questo tema, ci sono da circa 7-8 anni su questo argomento, è diventato molto centrale. Io, vabbè, per chi non mi conosce seguo un po' il mondo dell'openness, della cultura open, i progetti wikimedia e via dicendo e ovviamente la riproduzione di beni culturali che sono notoriamente in pubblico dominio è uno dei temi centrali che emerge in tutti i vari eventi, le varie iniziative che si fanno, comprese anche i corsi di formazione ai bibliotecari, ai dipendenti dei musei, io ne faccio tanti e quando arriva la parte su spiego il diritto d'autore, spiego che il diritto d'autore a un certo punto finisce, diventa tutto libero perché, viva Dio, a un certo punto qualsiasi opera accade in pubblico dominio, però dico, attenzione, però potrebbe essere un bene culturale, allora lì gelo, perché se è un bene culturale scattano una serie di norme che sono quelle che vado a presentarvi. Lascio più che altro per le slide, perché sto registrando anche da schermo qualche riferimento a cosa faccio, chi sono e cosa faccio, i miei riferimenti online, soprattutto slide share, se volete guardare ci sono già le slide, le ho messe poco prima di atterrare a Santa Maria Novella, alla stazione, spero di non cambiarle, nel senso che a volte mentre presenti ti accorgi, aspetta, questa cosa era meglio dirla così, dirla cos'ha, però ci sono già e chi se le vuole scaricare, compresi gli studenti che verranno interrogati su queste slide, la possono già fare. Allora, una prima parte, introduzione e premesse. Allora, questa cosa la stavo già anticipando, no? Partiamo da questo presupposto che a un certo punto qualsiasi tipo di creazione dell'essere umano deve diventare di pubblico dominio, è un sacrosanto diritto dell'essere umano a un certo punto a considerare come parte di un patrimonio comune, culturale, qualcosa che è stato creato in passato. La tutela del diritto d'autore già vale anche per altre creazioni, anche le invenzioni industriali ad esempio, il brevetto per invenzione ha una durata limitata nel tempo, vent'anni dalla data di deposito del brevetto. Perché? Perché si ritiene che vent'anni siano più che sufficienti per consentire all'inventore e a chi ha investito su quell'invenzione di rimunerarsi su quella sua trovata innovativa. Dopodiché tutti possono usare e applicare quel tipo di invenzione. Idem col diritto d'autore. Il diritto d'autore è una scadenza molto più lunga, 70 anni dalla morte dell'autore, quindi dell'ultimo autore sottolineo perché a volte se le opere si fanno in più persone bisogna aspettare che muoiano tutti prima di arrivare a contare i 70 anni. Il classico esempio che faccio è i brani dei Beatles, Lennon McCartney, anche se John Lennon è morto nell'80, noi non sappiamo quando scadranno. Non sono ancora partiti i 70 anni, quindi finché auguro grande salute e lunga vita a Paul McCartney, i 70 anni partiranno dalla morte di Paul McCartney. Quindi potrebbe passare ancora un secolo o giù di lì. Capite di cosa stiamo parlando? Brani musicali scritti nel 64, 63, 64, 65, quegli anni lì, che cadranno in pubblico dominio, lo vedranno forse i miei nipoti. Quindi questo è il presupposto. Se siamo tutti d'accordo che a un certo punto la creatività umana deve diventare, una creazione umana deve diventare patrimonio comune dell'umanità. Quindi qualsiasi opera creativa a un certo punto termina il suo periodo di tutela e diventa libera nel senso più ampio possibile, cioè diventa appunto patrimonio culturale dell'umanità, come sono Virgilio, come sono Omero, come sono Dante, Shakespeare, quello che volete, tutto ciò che è diventato pubblico dominio. E quindi detto questo, facciamo la domanda a bruciapelo, vedere se siete preparati, i miei studenti devono rispondere. Quindi se io vi dico che Botticelli è morto nel 1510, quando sono cadute in pubblico dominio le sue opere? Chi è che risponde? Si prende un più sul registro? Se è morto nel 1510, quando sono cadute in pubblico? 1580, 70 anni più 1510, giustamente. Tutti d'accordo? No. Piccolo problema, era una domanda truffa questa, ci siete cascati purtroppo. La domanda truffa è che Sandro Botticelli ha creato le sue opere quando il diritto d'autore non esisteva e quindi le sue opere erano in pubblico dominio fin dal momento in cui sono state create. Il diritto d'autore è una invenzione successiva, moderna, del 1700 e per l'Italia probabilmente anche 1800, prima codificazione in materia di diritto d'autore nel territorio italiano, prima del 1800. Tutto ciò che è stato creato prima il diritto d'autore non l'ha mai visto passare. Quindi Botticelli, Michelangelo, Bernini, Raffaello, tutta gente che il diritto d'autore non l'ha visto, né loro, né i loro eredi, né i loro editori che non esistevano, non c'era l'idea di riproduzione o se c'era, era intesa in altro modo, cioè riprodurre un quadro di Leonardo di Michelangelo voleva dire prendere un pittore altrettanto bravo e dirgli copialo. Questa era la riproduzione, il concetto di riproduzione O, prendere la scultura di Bernini e uno scultore altrettanto bravo, in grado di non spaccare le foglioline dei capelli o fare le vene della statua, quanto le faceva lui, quanto bene come le faceva lui e quindi fare una copia. Però quella era l'idea di copia. Quindi il diritto d'autore nasce in epoca... Sì, però erano altri tipi di opere, nel senso che è chiaro che quando è arrivato il diritto d'autore il primo tipo di opera di cui si è occupato è stata proprio l'opera editoriale, il libro, no? E gli spartiti musicali questo era. Ma la musica, intesa come le intendiamo noi, c'è la riproduzione di un disco o di un file in cui c'è dentro qualcuno che suona. È una roba che è arrivata molto dopo. Prima era riprodurre musica, era avere lo spartito e chiamare uno che a casa tua ti suonava, no? La famosa musica da camera. Erano i ricchi che potevano avere qualcuno in camera che gli suonava la musica. Quello era la riproduzione. Per il resto erano appunto testi letterari, testi teatrali e spartiti musicali, quindi cose che potevi poi eseguire in pubblico. Questo era il concetto di riproduzione, ma tutto ciò di cui noi parliamo, gli esempi che faremo, il Davide Michelangelo, la Venere, non so, Raffaello, quello che volete, tutta gente che il diritto d'autore non l'ha mai visto, ok? Ma magicamente, ciò nonostante Botticelli il diritto d'autore non l'ha mai visto, però gli uffizi non hanno un diritto d'autore ma hanno qualcosa che gli assomiglia molto. Questo è un po' il riassunto, vi dico già chi è l'assassino della storia. E sta cosa è un po' bizzarra, no? Perché ad oggi, nonostante quello che abbiamo detto, la Venere è tutt'altro che libera, ok? Per effetto di alcune norme è tutta italiana, nel senso che è una cosa, come ha già detto il direttore, tendenzialmente che percepiamo noi, forse i francesi, forse i greci, cioè quei posti, quei luoghi, a meno in cui c'è anche un patrimonio culturale molto importante da tutelare. Questo è in dubbio, quindi è chiaro che un californiano questo problema non lo percepisce, grazie, no? O un canadese, certo, è più un problema italiano, però non sappiamo se la risposta corretta è quella che stiamo dando con queste norme che vi vado a presentare. Quindi se non ci credete sul fatto che la Venere del Botticelli sia ancora sotto tutela, chiedete a Jean-Paul Gaultier che è l'esempio che è già stato citato. Quindi il quadro normativo, questa era la premessa. Non è detto che dovete essere d'accordo, cioè io parto dal presupposto che a un certo punto le opere debbano comunque cadere in pubblico dominio e essere di libero utilizzo. Uno può dire no, questa cosa qua secondo me è sbagliata, secondo me bisogna tutelarle, trovare sempre un modo per tutelarle. Se siete di quell'idea lì forse non siete venuti alla conferenza giusta, nel senso che io finirò, vi dico già, cercando di criticare questo approccio. Prima questione, il quadro normativo, le norme di riferimento fanno capo al diritto d'autore da una parte e al diritto dei beni culturali, che sono due mondi però separati. Il diritto dei beni culturali lo studiano coloro che fanno un percorso da diritto amministrativo tendenzialmente, gli amministrativisti. Il diritto d'autore è più figlio del diritto privato, civile. Io vengo da quel mondo lì indubbiamente, la proprietà intellettuale intesa nel senso più classico è diritto civile, diritto privato, diritto commerciale si è inteso come diritto industriale, se parli anche di brevetti, segreto industriale, marchi, quella parte lì. E l'altro invece è proprio vero diritto amministrativo, quindi già due mondi diversi, a volte anche diversi dal punto di vista delle competenze dei tribunali a cui ti devi rivolgere. Un tribunale amministrativo da una parte, un tribunale ordinario dall'altra, non sempre vero, a seconda dei casi. Però si intersecano, si intersecano in alcuni punti e il punto su cui si intersecano è proprio quello del tema delle riproduzioni. Perché riproduzione, come abbiamo detto, è il classico tema da diritto d'autore. Ma se la riproduzione diventa un modo per tutelare anche il bene culturale, allora se lo prende anche come tema anche l'amministrativista, il mondo del diritto amministrativo, nella sua accezione diritto dei beni culturali. Qua abbiamo, vi ho riassunto le fonti normative, ripeto, questa è una lezione su cui poi gli studenti verranno anche interrogati, quindi ho cercato di mettere le slide il più didascalico possibile. Vedete la legge sul diritto d'autore, che abbrevieremo LDA, è una legge, se è trattata del 41, lo dico sempre, non è rimasta uguale a se stessa dal 41 ad oggi, viva Dio, quindi è stata cambiata, tra cui come vedete una direttiva europea del 2019 che è stata recepita l'anno scorso, nel 2021, quindi ha inserito un bel pezzo di articoli, ne ha cambiati e inseriti di nuovi per circa il 15%, quindi insomma una riforma abbastanza cospicua della nostra legge sul diritto d'autore, quindi non è una legge vecchia a priori. Potrebbe essere oggetto di una riscrittura generale, quello forse sì, in modo tale che si riordina un po' anche alcuni commi, bis, terra, quater, che stanno un po' perdendo il filo. Però poi l'altra norma di riferimento è il codice dei beni culturali, più propriamente dovremmo dire codice dei beni culturali del paesaggio, il suo nome intero, decreto legislativo 42 del 2004. Anche noto come codici urbani, perché a volte si chiamano le leggi con il nome del loro principale promotore, all'epoca era il ministro, credo, oppure il rappresentante, il firmatario principale come parlamentare di questo decreto. C'è anche un decreto del Ministero della Cultura del 8 aprile 1994 che per date si intitola Tariffario per la determinazione di canoni corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale precario dei beni in consegna al Ministero. Se voi andate a leggere questa norma, uno dei primi articoli dice che il decreto ministeriale è approvato sulla base di una legge del 1993. È un decreto ministeriale, quindi è un decreto attuativo di una legge del 1993. Se voi andate a cercare la legge del 1993, è una legge che è stata abrogata e non è più in vigore. Quindi altra cosa bizzarra. Beh, succede, però questa è una norma secondaria che atta una norma primaria che non è più in vigore, che è stata abrogata. No, non decade automaticamente. Bella domanda. Perché in realtà poi viene utilizzato ancora questo decreto. Cioè se tu lo cerchi sulla gazzetta ufficiale lo trovi ancora. L'ho cercato ieri su normativa.it, che è il sito dove si cercano le norme vigenti, non l'ho trovato, ad esempio. Altra questione che sarebbe interessante da approfondire. E poi ci sono queste nuove linee guida, nuove perché sono di giugno di quest'anno, del 2022, linee guida PND, le abbreviamo, cioè piano nazionale di digitalizzazione di cosa? Del patrimonio culturale, emessa dal Ministero della Cultura in questi ultimi mesi. Dopo ve le faccio vedere meglio. Lo spirito del... Allora, iniziamo dal codice dei beni culturali che è appunto il protagonista, il cattivo della storia, potremmo dire. Che scopo ha? Che qual è lo spirito del codice dei beni culturali? Lo leggiamo dall'articolo 1. Quasi tutte le norme, testi normativi, nel primo articolo trovi un po' il senso della norma, del perché è stato approvato questo testo di legge. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio a promuovere lo sviluppo della cultura. Vabbè, è un principio che già abbiamo anche in Costituzione. Lo Stato, qui vediamo i destinatari un po' di questa norma, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. Questi sono i due concetti, quindi favorirne la pubblica fruizione sembrerebbe appunto andare in contotendenza con quello che abbiamo detto. Certo, favorire la pubblica fruizione vorrebbe dire togliere il più possibile i vincoli affinché venga più diffusa possibile, ma poi c'è valorizzazione che ti frega, perché valorizzazione è parente di monetizzazione, cioè valorizzare vuol dire anche dar, anzi vuol dire principalmente dare valore e secondo questa interpretazione dare valore vuol dire far pagare l'utilizzatore. è un'altra, certo che è ambiguo, però avviene, sono d'accordo, però appunto penso che quello sia il giro semantico su cui ci stiamo avvitando. Il 4, il comma 4, gli altri soggetti pubblici nello svolgimento della loro attività assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale, quindi vedete che sostanzialmente gli obiettivi sono favorire la pubblica fruizione, conservare il bene culturale, che ovviamente è un bene delicato, prezioso, quindi giustamente deve essere tenuto conservato, essere messo al sicuro in un certo senso, però comunque vedete sempre un'ottica di pubblica fruizione, cioè quindi l'obiettivo della conservazione del bene culturale è permettere poi ai cittadini di poterne fruire il più possibile, questo è il senso generale. E come lo fa? Con alcuni articoli che sono quelli invece sulle riproduzioni, ovviamente serve da fare tutta una lezione sul diritto ai beni culturali, però vado diretto sul tema delle riproduzioni, articoli 107 e 108, ce n'è anche un 109 che è sulle riproduzioni fotografiche, però in questa sede non ci interessa molto e poi andremo troppo lunghi. Allora, Ministero delle Regioni e gli altri enti pubblici e territoriali possono consentire la riproduzione, nonché l'uso strumentale precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve a disposizione di cui è a comma seguente, a comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. Primi commenti da fare. Allora, possono consentire, è scritto in modo anche qua un po', no, criptico. Possono consentire e quindi possono anche non consentirla, no? Quindi potevano scriverlo in modo diverso, quindi onde evitare di mettere l'accento sul divieto, hanno messo l'accento sul consentire, ma dicendo possono implica anche che volendo possono anche no, possono anche dirti di no. Ok? E poi dice fatte salve, diciamo quello che leggeremo fra breve, e le norme in materia di diritto d'autore. Cosa vuol dire? Che se il bene culturale è anche opera tutelata dal diritto d'autore, ci becchiamo sia l'articolo 107-108, sia tutte le norme sul diritto d'autore. E io lì sto zitto perché mi va benone, nel senso che se parliamo di Picasso, di Dalì, di Modigliani, di Chirico, chi volete, cioè quelli che sono ancora tutelati, c'è anche di mezzo il diritto d'autore, possiamo discutere finché vogliamo, stiamo qua fino a stanotte, che 70 anni dalla morte siano eccessivi, siano mostruosamente fuori misura in un mondo come quello di oggi, in cui le opere cadono in obsolescenza molto presto, però vabbè, lì c'è un diritto d'autore, non discuto. Però dove non c'è, e anche in quei casi in cui il diritto d'autore e l'autore stesso non l'aveva mai visto, scatta questo articolo 107 e il seguente, però scusate dobbiamo finire il 107 ancora. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi per contatto dagli originali di sculture di opere in rilievo in genere e di qualunque materiale tali beni siano fatti. Ovviamente qua sta parlando non delle riproduzioni che interessano noi, perché sono quelle che effettivamente mettono in pericolo il bene. Cioè tu devi andare a tirare fuori da una teca una scultura che è lì da 700 anni, farle un calco. Lì capisco che ci sia una preoccupazione di, no esatto, ma anche a volte aprire semplicemente un codex, un libro, devi usare i guanti, devi usare una cosa che ti toglie la polvere dalle dita. Capisco, ci sono esigenze diverse, ma noi come vedremo parleremo non tanto di questa roba qua, ma di riproduzioni, di riproduzioni, cioè di cose che sono già state digitalizzate e vado a prendermene dal sito del museo o da Wikimedia Commons o da un altro archivio, quindi nessuno va a toccarlo il quadro o la scultura o il libro. Ed è una cosa ben diversa, benché vogliano farci credere che siano più o meno la stessa cosa. Dalle riproduzioni è consentita solo in via eccezionale nel rispetto alle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Quindi se parliamo di andare a toccare il bene, effettivamente ci sono delle norme più stringenti, lo sta dicendo e ci rimanda ad un'altra norma che noi non vediamo. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del sovraintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludono il contatto diretto con l'originale. Cioè se io la copia la faccio, il calco lo faccio da una scultura che a sua volta è una copia, si preoccupano un po' meno giustamente o addirittura, ad esempio con le scansioni 3D che abbiamo adesso, tu puoi fare un calco senza toccarla effettivamente la scultura o il basso rilievo che sia e quindi la tecnologia in questo caso ci aiuta. 108 è lì quello che ci interessa di più. I canoni, si intitola canoni di concessione corrispettivi di riproduzione e cauzione. Il primo comma, i primi due sono quelli originali più o meno del 2004 e i canoni di concessione dice ed i corrispettivi connessi alla riproduzione di beni culturali sono determinati dall'autorità che consegna i beni. Quindi anche qua inizia ad entrare in gioco un protagonista della mia critica, cioè l'ampia discrezionalità che tu lasci ai singoli enti di determinare quanto ti devi pagare, quanto devi pagare e se devi pagare. E per determinare questi canoni le autorità, quindi comuni, musei, le sovrintendenze, gli enti che hanno in tutela il bene, tengono conto di queste quattro variabili potremmo dire. A. Del carattere delle attività a cui si riferiscono le concessioni d'uso. B. Dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni. C. Del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni. D. Dell'uso e della destinazione delle riproduzioni e nonché dei benefici economici che ne derivano il richiedente. Quindi se il richiedente vende vestiti su scala mondiale può essere che abbia ovviamente un vantaggio economico più alto e quindi ti faccio pagare di più rispetto alla piccola startup che fa le pennette USB a base locale e le distribuisce negli eventi locali. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti di regola in via anticipata, cioè paghi prima di mettere in uso l'opera di regola. Vuol dire che volendo loro hanno possibilità di darvi come dire eccezione. Stabiliti questi principi generali ci sono un comma 3 e un comma 3 bis che invece stabiliscono da un lato l'esenzione ai canoni. Quindi il 3 dice chi è esentato in quali condizioni pur dovendo chiedere il permesso non paghi nulla. Quindi comma 3 nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Cioè per tutte queste cose non paghi ma devi chiedere comunque il permesso in teoria. Se ci sono delle spese vive le devi comunque assumere tu che stai chiedendo l'utilizzo. Cioè se, che ne so, stiamo parlando di un quadro che è in uno scantinato perché non è esposto e devo pagare l'omino che lo va a prendere toglie il cello, toglie qua e poi lo rimpacchetta, lo mette sotto una luce di un certo tipo ci sono delle ore uomo da pagare e allora quelle io che ho fatto la richiesta devo rimborsarle io. Vabbè, fin qua. Possiamo anche essere d'accordo ma parliamo sempre di situazioni in cui vado a toccare, a mettere in pericolo effettivamente il bene. Il 3 bis, scusate una cosa che non vi ho detto, queste norme sono introdotte, sono state introdotte nel 2017. C'è stato un bel dibattito perché in effetti prima non c'erano e quindi tutti si erano domandati ma caspita ma non possiamo fare nulla con questi beni culturali, avevano sempre chiedere il permesso. Allora, per stemperare un po' questa situazione il legislatore nel 2017 ha inserito questi spiragli di luce, possiamo chiamarli. Vedete che il 3 bis, libertà concesse, sono in ogni caso libere quindi le seguenti attività svolte senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza e patrimonio culturale, due punti e sono due casi. Quindi io devo fare queste attività, vedete, senza scopo di lucro, deve essere finalità di studio, ricerca o libera manifestazione del pensiero o espressione creativa o promozione della conoscenza e patrimonio culturale. Su promozione della conoscenza e patrimonio culturale dopo ho una slide sui cosiddetti art influencer. Art influencer fino a dove è promozione del patrimonio, promozione della conoscenza e dove diventa attività commerciale. Perché l'art influencer quando comincia ad avere un po' di visibilità monetizza il suo profilo Instagram, no? Si fa pagare dal ristorante tale, dall'albergo per fare le foto e far vedere che è nell'albergo. E quella roba lì non è attività commerciale. e lui sì e Jean Paul Gaultier no? Perché? Boh, nel senso Jean Paul Gaultier è uno che comunque ha reso la moda a certi livelli. Vabbè, comunque le due cose che potete fare a quelle condizioni sono, uno, la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, vabbè ci sono delle restrizioni legate ai beni archivistici, quindi una cosa un po' a sé, quindi più che altro documenti di archivi, più che opere pittoriche o scultore. Attuata nel rispetto delle esposizioni che tutelano il diritto d'autore, quindi ci ricorda che se c'è del diritto d'autore quello lì ce lo becchiamo comunque, e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ribadisce anche qua una cosa che sembra già abbastanza spiegata nelle norme precedenti. Né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, famoso flash che rovina e che crea problemi ai quadri, se mai capito se è vero o se è una... però vabbè, può essere. Né all'interno degli istituti di cultura l'uso di stativi o treppiedi, cioè se io vado con, eccoli là, il cavallettino, la macchina fotografica messa in un certo modo, si presuppone che quella cosa lì già sia un'attività un po' più professionale, un po' meno divulgativa e personale, e poi occupo dello spazio. In effetti in alcuni musei, questo lo posso capire, se tutti andassero con quella geggio là, si creerebbe anche un problema la domenica pomeriggio, prima di Natale, già c'è le sale piene, se tutti si mettono lì e vogliono trovare la luce giusta, la gente che si sposta, no scusa, diventa un po' una questione più che di riproduzione, ma di ordine pubblico potremmo dire. Va bene. E poi due, è possibile sempre la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, vuol dire che se non potevo, cioè se mi sono fatto dare sotto banco, non funziona, non rientro in questo articolo qua, oppure se c'è un cartello che ho scritto di vetro e fotografia, quindi un regolamento interno del museo e io faccio le foto, me ne frego, e dico ma sì, tanto poi le distribuisco, allora non le ho legittimamente acquisite. E poi, ecco la frase che a me manda fuori di testa, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Dopo chiedo anche a Marco se mi aiuta a interpretare questa cosa o se c'è qualche esperto di lingua proprio semantica, perché io non la capisco, perché io da giurista se leggo in modo da, penso ad una responsabilità. Cioè, penso, ma chi è che deve preoccuparsi che sia in modo da? Eh, perché se no è un incubo, se no io ogni volta che metto fuori qualcosa, dico ma aspetta, ma poi quelli che la prendono, faranno in modo da o in modo da non? No? Quindi scritta davvero male questa cosa, oppure volutamente male, adesso non lo so. Io che espongo no, Wikimedia o un utente di Wikimedia Commons che pubblica un bene lì come fa a sapere l'uso a scopo di lucro che altri faranno senza dirgli nulla. E questo in modo da far ricadere su di lui la responsabilità, cioè devo metterci sopra qualcosa, devo indicare qua, devo mettere una password per cui ogni volta che uno la scarica mi arriva una notifica, non lo so. Non si capisce bene cosa volessero dire. Ci sono altri quattro commi, altri tre commi, arriva da 4, 5, 6 e li ho messi perché non ci interessano.